È una dinamica chiaramente italiana, ma lo possiamo fare con forza perché abbiamo già davanti una prospettiva di crescita impressionante e poi banalmente perché l'idea ce l'abbiamo avuta noi, cioè non esisteva e adesso da oggi esiste perché abbiamo avuto questa fantastica idea. Quindi ce ne impossessiamo e con la capacità operativa, l'intelligenza anche artistica e l'intuizione siamo convinti che riusciremo a costruire quello che adesso il mondo ci riconosce. Leggevo qualche giorno fa, anzi me ne parlava un esperto di marketing, una roba che mi ha stupito, che il brand Milano è percepito da uno studio, da un'indagine che è stata fatta, come il terzo brand mondiale come riconoscibilità e diffusione. Il desiderio, quell'idea originale che non è neanche della lirica, arriva ancora prima, di raccontare una storia, di raccontare di fatto la vita con le sue pulsioni, le sue esperienze, i suoi desideri, usando tutte le forme artistiche possibili. Cioè, questo c'è nella lirica, questo c'è nel musico, anche se non sono collegate, c'è questo filone, amante, quel desiderio di narrare ciò che è importante, usando tutte le forme artistiche. Siamo così onore di essere un co-founder di questo festival con i nostri partner italiani e crediamo che questo è qualcosa che possiamo fare su un'annuale basis, ogni anno in giugno e in Milano. E noi stiamo facendo un'annuale visibilità di un'annuale visibilità di un'annuale visibilità. giuseppe un'annuale visibilità perché c'è e quindi un'annuale visibilità delle eŷbra che stiego da un allen B Near-Zio dell'Annuale visitará! Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione